E' lì giussati! E' lì giussati! Che l'ha che stiamo, ha trovato un pezzo a sti scopi. Vai ricordate l'anno passato. Facette con la vigile natale, e poi ci passiamo con Don Ferdinando. Vabbè, sì sì! Ah, Don Ferdinando, se non c'è un piccicamma, non c'è un libro bene. Vabbè! 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 L'armi arrivò, e mio nonno era spagnolo, io lo chiamavano una volta, e a me, quando erano iniziali, mi chiamavano a spagnoletto. Uè! Perciò, vedevano il ritmo, perché se no ti faccio una faccia d'altro, io non lo sapevo di capocciarmi. Ah, spagnolo, e a me mi chiamavano Dredd Tram! Nooo! 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 Wow! Nooo! 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 Ma non ti preoccuparti! Viene a prcia anche il suo tempo! Non c'è tanto non problema! Quanto è proprio un bel tempo! conhecer, vorrei venire una이다 ma non extrace mell sensory aggravato.. הש0 노 confirmation! Nooo! e ora... e ora... e ora... e ora... e non mi fai mai più e se capisci capire sei io io per di niente e il colore la vista fa e lo metto sotto a sta capisco ma allora che che la scelta io mi siano accampato con un quarto buco i guagliori non sono mandato sono rimasti giù alla bottega di Pugatella a mangiare il gelatino e ora... sono stati tutti in quattro buco e... ahhh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.